ci siamo sempre un ru in testa questa volta si scheda delle difficoltà, è incredibile stanno arrivando, un ru in sia è sorpasso incredibile si scheda, attenta il sorpasso eccoli, siamo nell'ultimo giro attenzione, curve pericolose e a un ru, se ne frega del pericolo e tenta il sorpasso, ma Fischetta non si fa superare ancora un ru all'interno ce la fa, questa volta ce la fa Fischetta in difficoltà, ma rientra ancora ah 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 Urru, Urru ancora in testa, incredibile la modifica del suo mezzo ha finalmente fruttato è شي Now una volta un'altra un'altra l'altra operabile